Sono Simone e ho 9 anni. Io, mia sorella Marta e mia mamma Alessia vogliamo augurarti un... C'è la freccia! Aspetta eh! Felice e morbido Natale! Tanti auguri Simo, Alessia e Marta! Hai visto che meraviglia? Tutte persone nuove! Sei qui che tremi dall'emozione, povera! Stai tranquilla! Sì, ma ci torniamo anche noi! Grazie! Eh, guarda, adesso lo apriamo... Vediamo... La casetta, po', forse... Brava, la sciarpa che avevi chiesto, lo scialle! Wow! Sì! È quello che desideravi! Guarda che meraviglia! Azzurro come i tuoi occhi aveva chiesto! Come i tuoi occhi proprio, guarda! Adesso! Te lo mettiamo... Sono molto belle! Guarda! All'emozia! Questa ragazza si chiama Irene! È bella! Lei non è pergamatta! Tienitelo! È bella! Guarda, facciamogliela vedere così! Guarda qua, è arrivata! È vero! Bellissima! Bellissima! Grazie! Wow! Il coronavirus ha proprio influenzato la vita delle RSA, molte sono state anche dei focolai, quindi mi premeva davvero poter portare una ventata di spensieratezza anche con poco e quindi ho deciso di aderire. Si crea un qualcosa di magico e un legame nonostante la distanza. Tu avevi chiesto un bel maglione! Mandale un bel bacio! Ha chiesto cosa devi darti in cambio! Questo è un anno complesso per tutti e per me è un anno particolare, un anno in cui ho perso tutti e due i nostri. Adesso vedi chi ha mandato questo bellissimo! Atalanta! Forse Atalanta! Forse Atalanta! Atalantino sono lì! C'era un Atalantino sull'Atalanta! No! Se mi sentono! Nooo! Sono emozionato! Non vai piangere adesso! Nooo! Oddio! Non vai piangere perché sono troppo emozionato! Nooo! 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 Grazie a tutti.